Qua signori Omar Video Ragazzi Il periodo piglo sumetag è finito E' finito Madonna il gatto che passa No comunque è una breve cosa vogliamo dire Solo una breve cosa E' finito il periodo Piglo sumetag perché adesso E' arrivato il periodo Di E' arrivato il periodo E poi Mario non c'è più No comunque a parte gli scherzi Adesso Milano si è calmata Oggi è il 9 giugno Sto guardando bene C'è stato un acquazzone della madonna Dio ci ha tirato giù di quelle cose E' anche un dono ragazzi E' anche un dono Però a bestemmiare Non so che cosa E niente adesso guardate E' calma La città è calma Chi è di Milano Sa come è stato L'ultima cosa Dile a te perché Ragazzi Ci vuole stare ancora un mare Così andavo a vedere tutti i dag Ma pigliano in del culo Ma pigliano in del culo